La sua eminenza, Cardinale Ernest Simoni, innanzitutto grazie per essere venuto qui, per portarci la sua preziosa testimonianza. Io vorrei partire con il racconto della sua vita, di quello che le è successo partendo dalla notte proprio del suo arresto. Era il 24 dicembre del 1963, lei era in chiesa, stava celebrando la Santa Messa, siamo in Albania, a Scutari, un villaggio vicino Scutari, quando quattro agenti della Sigurimi, la polizia segreta albanese, entrano in chiesa e appena lei finisce di celebrare la Messa, lo arrestano. Le stringono i polsi con le manette così forti che stava quasi per svenire. Siamo in Albania, lo ricordiamo, sono gli anni del regime comunista di Ember Oja, che toccò poi il picco nel 67, quando Oja dichiarò che l'Albania era il primo paese al mondo dove l'ateismo di Stato era scritto nella Costituzione. Si vietava qualsiasi forma di adesione alle religioni, si vietava ai genitori di dare nomi di santi ai propri figli, ai paesi che portavano nomi di santi furono cambiati i nomi, vennero chiuse le chiese, le sinagoge, le moschee. Lei che ricordo ha di quella notte in cui vennero a prenderla in chiesa? Nella vigilia di Natale, alle otto di mattina, a metà della Messa, sono arrivati quattro ufficiali con il decreto del Presidente e con l'accusa e il decreto di impicarmi. La prima accusa era questa perché io avevo detto a tutto il popolo Gesù è la storia del mondo, Gesù è la nostra risurrezione, Gesù ci risusciterà tutti, dobbiamo essere fedeli fino alla morte, se sarà bisogno, verserà anche il sangue per il suo amore infinito, per salvare se stessi e per gli altri peccatori. Questa era la sua colpa? La colpa, la massima colpa. Poi aggiunta a questa accusa era perché tre settimane prima, come sanno tutti, era ammazzato il Presidente americano Giovanni Kennedy. Il Santo Padre Paolo VI gli dì ordine di recitare tre messe, tutti i sacerdoti del mondo per la sua anima, perché, malgrado, il primo Presidente cattolico romano. Io avevo celebrato tutte le tre messe, la terza accusa per gli esorcismi, allora mi hanno arrestato le mani indietro, quasi mi ruppero le mani con i calci. Alla notte, alla sera, mi svegliarono, mi fece un nudo e mi avevano messo in microspia. In cella? Sì. La microspia era stata congiunta tramite l'aereo con l'ufficio del Presidente. Del Presidente Osce. E sentivo tutto quello che io parlavo. Forse avevano avuto tante duvide, sospetti, ma io solamente per Gesù e per la Chiesa e per il popolo, perché era un uomo semplice. Poi da tante domande, eccetera, eccetera, vogliono un momento dopo due mesi di farmi bestemmiare contro la Chiesa, contro i superiori, su Vaticano, su tutto questo. Cercavano di provocarla, cercavano di farle rinnegare anche la sua fede, no? Devo parlare tutti quanti, io non ho arrestato niente. Allora con le catene tedesche così, strettissime, la sistorazione era spinita. Non so come a Dio mi ha salvato. Era quasi morto lei. Mi hanno arrestato. Perché le avevano stretto le catene. Le catene tramenti. Con l'acqua gelida, lo so, lo ramento che mi hanno gettato, era tutto ghiaccio al tempo. Sono andato quasi nel sogno, sono ritornato in vita. Per questo si è convosso. Il Santo Padre, quando gli ha detto due parole, perché non pensavo... Per tutto è stata la grazia divina che dice San Paolo, tutti loro che amano il Signore, tutti i loro affari si trasformano nel bene dell'anime e della personalità dell'uomo e per la servizia dell'umanità. La condanna era terribile. Lei fu condannato a morte. Dopo, oltre alla microspia, le misero anche una persona in cella. Che tra l'altro era anche una persona che lei conosceva. Sempre per spiarla. Sempre perché doveva riportare questa persona le cose che lei diceva. E per, come dire, dare manforte a questa condanna. Da lei, come ci spiegava, venivano solo parole di amore verso Gesù e la condanna, queste parole arrivarono a Oscia, la sua condanna fu commutata dalla pena di morte all'arresto, ergastolo e lavori forzati. È tutto giusto. Forse aveva una persona, quel uomo, per svelarmi, chissà tante bucchie. Mi diceva, questi sono delinquenti, o ne batte tutte le chiese, o cidere sono... Io dicevo, solamente per la cortesia, ogni uomo deve essere prodotto quando parla, di non sparlare per nessuno. Sempre come ha detto Gesù, non giudicate, se volete essere giudicati. Io ho lavorato 12 anni nelle miniere, 500 metri sotto il sole della terra, senza produzione, solo 6 signore, tutti i vapori così bruni, rosastri, dal valeno, dal sott terra. Dopo 10 anni si fece un'istruzione, che non è detto qui. Insurrezione. Allora, tutte le accuse, perché ero solo... Erano su di lei. A me. Ma, grazie al signore che ha voluto salvarvi, era lì il ministro degli affari interni dell'Alemania, aveva filmato tutto, e ci ha radonato 4.000 persone, prigionieri che eravamo, e ha detto davanti a tutto, per bruciare, vivo, donna lesto, non abbiamo paura di nessuno, ma non uscire per le vostre bugie. Lei fu accusato di aver istigato questa sommossa, dopo 10 anni... Dopo 10 anni. ...in cui era già in carcere. Sì. E quindi di nuovo venne condannato a morte. Per la seconda volta. Per la seconda volta. Con 12 albanesi, cattolici giovani, per rafforzare la bugia, per la guantana. Ma tutto era filmato. Era tutto finito, ovviamente. Per la seconda, il Signore mi ha salvato. È stato l'amore per Gesù che l'ha tenuta in vita e che l'ha salvata. La grazia divina. Abbiamo dimenticato che Gesù è ogni casa. Come mai è possibile? Dove sono due preganti, il terzo Gesù, in ogni famiglia. Poi ha detto, andate nel mondo intero, predicate l'Evangelio a tutte le creature. No, così in aria, una parola. Convincere che Gesù è con noi in ogni istante, in ogni casa, in ogni luogo, dove lo chiediamo, lo cerchiamo. Perché Gesù è l'amore infinito. so che è diventato anche una guida spirituale per i suoi compagni, per le persone che ha conosciuto anche in quegli anni. Quella grazia di Dio che mi ha salvato, perché se lo sapevano che io recitavo il Santo Rosario, facevo un po' di conversazione con i miei cattolici, mi indicavano. ma Dio mi ha salvato da tutte le impreviste. Recitavo il Santo Rosario due, tre, al buio, quando... di nascosto? Nascosto, per nascosto. Questo è un po' di solito. Dicevano, è buono, buono, ma è impazzito qua. Parla da solo? Parla con solo. E lei invece pregava di nascosto? Con tutto il cuore. E raccomandavo a tutti pregare, rassegnare a Gesù e con noi il premio sarà infinito. Arriviamo al giorno in cui le dicono che lei è un uomo libero. passano 18 anni da quando viene arrestato. Viene convocato dalla polizia che le dice che da quel momento è libero. Libero poi vedremo per modo di dire perché in realtà poi viene comunque condannato, viene comunque dichiarato un nemico del governo per cui condannato a vita ai lavori forzati nelle fogne di Scuteri. Però in quel momento quando la chiamano e le dicono che può uscire dal carcere so che lei non ci credeva. Io tutto è una speranza. Beato che spera nel Signore perché l'uomo è così così e Dio è amore infinito. Così ho avuto la speranza ho lavorato nelle fogne di qua e di là per dieci anni quando ero dai villaggi cattolici ho celebrato la messa e mi è andato il Signore davanti a 180 persone. Anche lì di nascosto lo facevate? in 85. Perché erano ancora gli anni del regime. No, no, era il regime potente del comunismo ma tutti i cattolici fedeli ho fatto la comunione la confessione il battesimo come parco fedeltà massima del nostro popolo dei cattolici. Nonostante il pericolo. Sì, sì. Ma sentivo un profumo posso dire celeste della grazia divina non avevo nessuna paura e lo Spirito Santo che ci aiutava mi ha aiutato. Il 21 settembre 2014 nella cattedrale di Tirana Papa Francesco ascoltando la sua storia si commuove e dopo il suo racconto vi stringete in un abbraccio fortissimo che ricordò di quel momento anche lei era molto commosso. Per me era tutto incredibile io pensavo una parola semplice ma il Santo Padre e il Santo San Francesco II la sua anima per tutti i popoli per tutti i giovani per tutta l'umanità per tutte le religioni perché è simbolo di Cristo il volto di Gesù per tutti coloro che forse non lo comprendono un Santo di Dio che guida la Chiesa per la vittoria di Gesù e del Salve di tutto il mondo. mi ha abbracciato poi mi ha voluto di baciare le mani voleva baciarle le mani io tanta vergogna come mai possibile io allora ha combattuto questa ha combattuto io mi racconta la prima volta che ha sentito parlare di Padre Pio quando è stato per Padre Pio ho sentito quando ero bambino dai francescani per un grande santo che è in Italia perché era un uomo santo ho letto la sua vita ho visto nella televisione è una grande gioia seguire la grazia divina tramite il Santo Padre Pio che è lo specchio di Gesù per avvicinare per convincere tutti gli uomini che si convertono e si salvino io qui ho il suo stemma l'Aquila dell'Albania il Giglio di Firenze queste sono le catene della prigione spezzate dalla croce e il mio cuore trionferà il mio cuore trionferà sì per salute che mi ha dato 90 anni grazie al Signore vado qua mi ha aiutato di andare devo ho tanti inviti in America Latina nel Giappone ma la Madonna che fa tutto grazie Eminenza grazie per essere stato qui con noi per averci portato la sua preziosa testimonianza grazie mille e Dio benedica la Madonna ci chiede di terrorizzare al giorno la bocca della Madonna non la bocca della Madonna per salvare tutta l'umanità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti